Allora sono rimasti con noi il professor Fabrizio Pregliasco, Luca Telese, ci ha raggiunto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMB, che è tornato per fare le pulci ai numeri. Siamo pronti professor Cartabellotta? Io sono sempre pronto sui numeri. Eh, lo so, lo so. Allora la prima cosa che le chiedo è, quello che abbiamo capito è che il Natale lo dovremo passare a casa, evitando i cenoni, evitando i grandi numeri, per qualcuno sarà un Natale particolarmente doloroso, per molti sarà semplicemente un Natale intimo, comunque con qualche sacrificio, ma tutto questo, diciamo, ci dà speranza per il futuro? Cioè i numeri ci dicono che però possiamo essere fiduciosi del futuro? Tutto questo è di fatto inevitabile da quanto noi sosteniamo da settimane, che l'obiettivo di raggiungere un'Italia tutta gialla era più un desiderata politico che uno specchio fedele di quella che è la situazione epidemiologica della circolazione del virus del nostro Paese. Noi ancora ci troviamo con un numero di casi attualmente positivi che sono più di 600.000, abbiamo ancora 25.000 soggetti, persone, pazienti in ospedale e più di 2.600 in terapia intensiva. Quindi di fatto tutte le misure introdotte con il DPCM del 3 di novembre hanno prodotto sì dei risultati, ma non dei risultati straordinari che ci permettevano di poter passare queste feste in assoluta tranquillità. Quindi la cosiddetta stretta di Natale è stata, diciamo, una inderogabile necessità per far sì di arrivare ai primi dell'anno con una curva di contagi più appiattita. Dopodiché dipenderà anche da noi, a seconda di come ci comporteremo in queste feste, se quella curva rimane un po' appiattita o se addirittura sale, ho capito bene? È così, lei tenga conto che noi nelle prossime settimane sicuramente vedremo un appiattimento, si potrebbe anche vedere una risalita perché di fatto noi vedremo gli effetti delle progressive riaperture, ecco, dello sbiadimento dei colori delle regioni che sappiamo a partire dai primi di dicembre, da rosse sono diventate arancione e poi gialle o da arancione e gialle. Quindi tenendo conto delle due o tre settimane di latenza, noi probabilmente tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo potremo vedere anche una risalita dei casi. Poi gli effetti delle misure restrittive di Natale li vedremo poi, diciamo, intorno alla metà di giornale. Anche perché, professor Cartabellotta, leggo da uno dei grafici che lei ci ha mandato, il cartello 4 per la regia, che nelle terapie intensive, lei prima lo accennava, ci sono ancora 2687 persone, ma questo che significa rispetto alla soglia di saturazione degli ospedali e delle regioni, evidentemente. La soglia di saturazione che per la terapia intensiva è fissata, come sappiamo, dagli indicatori del decreto del Ministero della Salute del 30 aprile al 30%, ci sono ancora 8 regioni che sono sopra soglia, la media nazionale è di poco superiore al 30%, però ancora ogni giorno ci sono un numero importante di pazienti che hanno in terapia intensiva, perché ricordiamo che questo numero rappresenta solo il saldo, cioè la differenza tra le entrate le uscite e purtroppo le uscite spesso avvengono facendo passare i pazienti a miglior vita. Quindi di fatto noi con quel numero dei casi attualmente positivi di cui discutiamo poco fa, che dobbiamo considerarlo il cosiddetto bacino complessivo di quella che è la dimensione epidemiologica dei contagiati del nostro Paese, che ripeto sono più di 600 mila, c'è sempre una quota rilevante di pazienti che entrano in ospedale, quindi gli effetti delle misure di mitigazione non dico che si sono esaurite completamente, però hanno dato il massimo rispetto a quello che potevano dare, come diceva il collega Pregliasco, ormai siamo arrivati un po' a quello che è il risultato finale, vedremo una lenta discesa, un appiattimento della curve. Senta, dottor Cartabellotta, ma la speranza nel vaccino me la lascia? Sì, nel senso che adesso il 27 fanno le prime vaccinazioni e poi tutti noi quando ci vaccineremo? Ma guardi, io nel vaccino ho una grande fiducia e ritengo che sia una grande conquista della scienza, però è opportuno sottolineare che prima di farla diventare una conquista e un risultato di sanità pubblica ci vuole una grande capacità organizzativa e grande disponibilità degli italiani a vaccinarsi. Poi però ci vogliono anche le dosi, ecco noi nel comunicato di oggi abbiamo... Aspetti, lei ha detto grande capacità organizzativa, disponibilità degli italiani a vaccinarsi, ha più dubbi sulla prima o sulla seconda questione intanto? È difficile dirlo, io a sensazione non parlo mai, le indagini anche condotte sulla popolazione possono essere diciamo influenzate dai cosiddetti bares, di selezione. Ma invece la capacità di organizzarci? La capacità di organizzarci da regione a regione, al di là di quelli che sono gli input dati diciamo dal piano strategico nazionale, le regioni potrebbero avere differenti possibilità di risposta. Sì, perché ricordiamolo, l'ultimo miglio è affidato alle regioni come noi vi abbiamo raccontato in questi giorni, però Cartabellotta, poi lei diceva c'è la questione delle dosi, arrivano intanto quelle di Pfizer, no? Ma la questione delle dosi va guardata sotto due punti di vista, il primo quello che è il totale degli accordi che l'Italia o direttamente o per la maggior parte mediate dall'Europa ha fatto con le varie ditte, che portano a quel famoso numero di 202 milioni 573 mila dosi, che ovviamente se le avessimo tutte, in tempi ovviamente diluiti, permetterebbero di vaccinare tutti. Però oggi noi dobbiamo fare i conti con quelle che sono le dosi attualmente disponibili e che ovviamente devono passare da quella che è prima l'approvazione dei singoli vaccini da parte dell'autorità europea, l'European Medicine Agency, la cosiddetta EMA. Allora noi sappiamo che il vaccino Pfizer-BioNTech è già stato approvato e quindi via libera, quello moderno in corso di approvazione dovrebbe avere un via libera il 6 gennaio, ma tutto questo di fatto diciamo con questi due vaccini approvati noi avremo poco più di 10 milioni di dosi nel primo trimestre, quindi entro marzo e circa 23 milioni di dosi, poco meno o entro giugno. Per gli altri vaccini, se le sperimentazioni non si concludono, se non vengono sottomessi i dossier completi e se l'EMA non dà l'autorizzazione, si tratta semplicemente di numeri che fanno parte di preaccordi che l'Italia ha fatto con le varie aziende produttrici, ma non sono numeri su cui noi oggi abbiamo la certezza assoluta, quindi noi abbiamo degli scenari best ma anche degli scenari worst e il piano complessivo deve basarsi su una situazione diciamo intermedia. Siamo in scuola, adesso mi aggiorni Alessio, vi chiedo solo di essere rapidi nelle risposte così riusciamo ad affrontarle tutte e due. Carta Bellotta, adesso è arrivata anche, siccome non avevamo abbastanza preoccupazioni, pure la questione della variante inglese. Ora, quello che ho capito io, ma lei mi corregga, è che in linea teorica, per quello che sappiamo adesso, dovrebbe essere più contagioso, è già arrivata la notizia, che è anche più contagiosa tra i bambini, quello che però sembra essere sicuro per il momento è che non è più letale. Lei mi conferma queste cose, abbiamo studi sufficienti per poterle dire con certezza? Guardi, rispetto alla maggiore contagiosità, se facciamo fede sui due documenti che hanno rilasciato il NERVTAG, che è un organismo di consultazione del governo inglese, e anche lo stesso documento del governo inglese che ha rilasciato proprio ieri, anzi l'altro ieri diciamo un documento dettagliato, sono delle evidenze che parlano di una evidenze moderate di una sostanziale maggiore trasmissibilità rispetto ad altre varianti, quindi siamo di fronte per la prima volta a una variante che è più contagiosa. Non ci sono invece evidenze, attenzione, quando non ci sono significa che non sappiamo se esistono o se non esistono, ma che devono essere approfondite, sui meccanismi che determinano questa maggiore trasmissibilità, sulle conseguenze sulla severità della malattia, cioè di fatto non abbiamo nessun dato clinico o nessun dato su un peggiore decorso clinico, su una maggiore mortalità o su una maggiore vulnerabilità di particolari gruppi di popolazione e soprattutto non sappiamo nulla sulla resistenza alla risposta anticorpale e al relativo impatto sia sulla possibilità di reinfezione sia sulla riduzione dell'efficacia dei vaccini, tanto che sia Pfizer che Moderna hanno annunciato... Stanno facendo, hanno fatto partire le sperimentazioni. Esattamente. Anche se devo dire che i ricercatori che stanno studiando questo, che eravamo un ricercatore dell'Università di Bologna, ci diceva che da quello che loro hanno studiato questa variante non intacca la proteina Spike che dovrebbe essere quella che reagisce al vaccino e quindi in linea di ragionamento l'efficacia del vaccino non dovrebbe essere inficiata da questa variabile. Grazie. Grazie. Grazie.